Parte finale, finalissima Super Coppa SK I Galatticos vincono contro i Keller 6 a 2, per ora sono i campioni in assoluto della manifestazione invernale Targata SK, torneo di calcetto 6 contro 6 Ti mostrano i Galatticos di essere comunque la squadra più forte, possiamo anche dirlo adesso Nonostante che sono molto rimaneggiati, mancano anche due elementi importanti che Galatticos hanno meritato pienamente Anche loro mancano, però meritano, meritano attualmente Galatticos Grazie anche a un'ottima prestazione di Renato Bilotto Diciamo che obiettivamente è il migliore in campo Io nel campo, sì, ma anche gli avversari hanno più volte complimentato Renato Bilotto Giochiamo Galatticos Manca l'ultimo minuto, vediamo Yamuno che si emoziona Campione invernale in assoluto Giochiamo 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 invernale in assoluto Fattuta gentile a giro! Cosa è la coppa? Cosa è la coppa? La prendi tu? Angelo Valletta Angelo! Stiamo per premiare i campioni in assoluto Il grande assente di Keller consigliato No no la tengo io dai! Yamurno si destreggia Arbitro nonché anche organizzatore Prepara la coppa per premiare i Galatticos I campioni in assoluto Vediamo quest'ultima azione penso che Amato sul secondo palo Vincono i Galatticos Campioni in assoluto Yamurno! Andiamo vicino a Ciro Premiato Capitano Pilotto nonché migliore in campo Migliore in campo Renato Complimenti siete la squadra più forte del torneo d'inverno Avete vinto la Supercoppa SK Com'è stata la partita? Bellissima la partita più bella che abbiamo mai giocato in vita nostra Complimenti a tutti quanti E' avversari a noi Stava una partita bellissima anche sportiva Ciro Yamurno non si è fatto ammonire 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 E' stato fatto da Max Bravi Galatticos Complimenti Vediamo un po' con l'arbitro che prende la traversa Vediamo La sacca? Eeeh dammi 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 Va bene bravi ragazzi Complimenti anche ai Keller Che sono Si sono posizionati i secondi più forti del torneo invernale Bravi Galatticos Bravi a tutti Ricordiamo anche il nuovo pallone Delle manifestazioni estive SK Ciao ragazzi